L'Istituto Romero protagonista nel cuore di Albino con una serata dedicata a una tragedia avvenuta a Lampedusa. Ecco perché questa tematica legata ai migranti? Ma diciamo il tema della migrazione è un tema molto attuale e la scuola è sempre attenta alle tematiche di attualità di cui si discute in classe e si vanno ad approfondire. Questa iniziativa è nata grazie a una proposta che ci è stata fatta dalla comunità del pane diffusa che è una comunità del territorio e ci ha proposto un testo scritto da un'associazione tedesca che si occupa di questi temi che ha raccolto delle testimonianze della tragedia che è avvenuta il 3 ottobre del 2013 davanti a Lampedusa in cui sono morti circa 300 persone e quindi con i ragazzi abbiamo preparato una lettura e realizzato anche delle attività di approfondimento su questo tema. Sono accompagnati anche da altre realtà sul palco i ragazzi? L'iniziativa sì, è un'iniziativa abbastanza impegnativa e abbiamo avuto l'appoggio del comune di Albino e di diverse associazioni del territorio. Le cito velocemente, oltre alla biblioteca comunale, la comunità del pane diffusa, l'associazione Mamme nel mondo, Linea d'Ombra, gli scout di Alzano e Nembro, Cibo di ogni colore, l'associazione Fileo, Ruà Cooperativa e anche l'associazione Costruiamo Ponti con Viviana Onlus. Sono tutti gruppi interessati a queste tematiche di carattere sociale che in un modo o nell'altro hanno contribuito all'organizzazione. In scena ci sono i nostri studenti che sono stati preparati da me per questa lettura. Ricordiamo quando? Domani, giovedì, ci sarà una rappresentazione dedicata agli studenti della scuola alle ore 10 e 30 e la sera alle ore 20 e 30 aperta a tutti.